Non la vintesti? Pulisca bene. Aveva l'arma del delitto e un muovente. Voglio dire, che cosa manca? Il 900 euro che avrebbe prelevato dalla cassa. I colleghi hanno setacciato la casa, la strada che porta lì, niente. Lascialo a me e mi dirà dove gli ammessi. Ian, di quanto mi pare a Fina? È in corso. Bene. Dobbiamo scoprire...